Non giocate a Final Fantasy VII Rebirth, perché fa schifo, cioè non doveva proprio chiamarsi Final Fantasy VII, hanno stravolto tutto e ora è una cafonata. Va bene, facciamo così. Datemi 10 minuti e proverò a convincervi che tutto sommato dargli una possibilità non è poi così sacrilego. E se non ci riuscirò, vabbè, ci saremmo fatti una bella discussione. Faccio partire il timer. Ma prima, bentornati o se siete nuovi benvenuti mi presento, io sono Ilaria e Gentili, per gli amici del web, e sui miei canali mi occupo di divulgazione e approfondimento di tanta narrativa e studio di quel fantastico medium che è il videogioco. Ragazzi, è chiaro che nel momento in cui hanno deciso di fare una saga remake, barra reboot, barra chiamiamola come la vogliamo chiamare, si sono presi una grande responsabilità, sia perché il capitolo VII di Final Fantasy è uno di quelli più amati da parte dei fan e dei non fan. Eccomi qui, io non ho giocato tantissimo in Final Fantasy, ma il VII è uno di quei capitoli che mi sono recuperata in originale e che adesso, da quando è arrivata la svolta remake, sto rivivendo piano piano e con non poca gioia. Final Fantasy VII ha una storia complessa, una storia bellissima, ma non lineare, soprattutto con personaggi che si sovrappongono ad altri, fatta di un sacco di flashback importantissimi per capire il futuro, o meglio, il nostro presente nel momento in cui stiamo giocando, e soprattutto le motivazioni che muovono le azioni sia dei nostri protagonisti che chiaramente del principale nemico della trama. Insomma, da persona che sta apprezzando quindi la saga remake, vi posso sicuramente dire che nella trama originale ci sono decisamente delle cose che hanno senso di avvenire in un determinato modo. E se alcuni aspetti dovessero essere cambiati in Rebirth o nel sequel, ossia il terzo capitolo di questa trilogia, farebbero si storcere il naso da alcuni, ma al di là di questo, creerebbero delle incomprensioni e delle incoerenze gravissime. Partiamo però da un topic. Come doveva essere fatto questo remake? La premessa che io vi faccio è che sono un amante dei remake uno a uno, soprattutto di quei videogiochi che sono talmente tanto datati, sia visivamente parlando, sia a livello di combat system, per cui la priorità, a mio avviso, sarebbe quella di svecchiare questi due elementi, invece che concentrarci sullo stravolgere la trama e creare qualcosa di molto pericoloso, e che rischia, come dicevo prima, di risultare a tratti incoerente. Bene. E infatti le prime cose che ho reputato a favore della saga remake erano proprio queste due, Final Fantasy VII e un videogioco del 97. Un videogioco obiettivamente vecchio, sia graficamente parlando che a livello di sistema di combattimento. Non che nel 2020 non esistessero dei videogiochi a turni, ma possiamo tranquillamente concordare che i turni sono un sistema di combattimento non adatto a tutti. E voi dite che problema c'è? Non c'è problema, ma probabilmente l'obiettivo del remake era proprio quello di far affacciare alla storia di Final Fantasy VII tutte quelle persone che magari o non lo hanno giocato a suo tempo, o che magari si sentono frenate dall'ostacolo dei turni. Bene, il discorso qual è? Ovviamente si stava puntando a lanciare il videogioco affinché appunto potesse abbracciare un bacino d'utenza ben più ampio. E a mio modo di vedere il sistema di combattimento di Final Fantasy VII Remake e adesso Rebirth è spettacolare. Mi piace da impazzire, perché non rendono il videogioco un button mesh, in cui devi solo premere quadrato a ripetizione o fare qualche combo fortuita, e poi puoi proseguire nell'esplorazione. No, comunque è rimasto integro il sistema di materie pensato, sempre svecchiandolo, ma coerentemente con quello che era il sistema di materie del set originale, e ci deve comunque essere una tattica di base. E questa paradossalmente è la critica minore che ho sentito muovere al remake, nonostante vada ad intaccare uno dei punti cardine che identificava appunto il videogioco originale. Quindi, insomma, anche i detrattori hanno apprezzato, perlomeno la maggior parte di quelli con cui mi sono confrontata, questo nuovo combat system. E quindi il problema qual è? È proprio legato alla trama. È legato all'effetto Nomura che ha colpito anche questo Final Fantasy VII Remake e Rebirth. Amici, chiaramente non vi preoccupate per gli spoiler, perché sto attualmente al capitolo 4 di Rebirth, non avrebbe senso spoilerarvi nulla, non lo farei a voi e non lo farei neanche a me, quindi non vi preoccupate, siete al sicuro. Ci sono stati dei cambi di trama che tante persone hanno reputato e continuano a reputare non degni della storia originale. Non posso parlare e vi invito nei commenti sotto a non spoilerare nulla di Rebirth, anche perché, ve lo garantisco, non fate in tempo a scrivere lo spoiler che il vostro commento verrà subito eliminato. Come dicevo, questo è un po' l'effetto Nomura, lo abbiamo visto in Kingdom Hearts, a lui piace l'idea di creare questi multiversi, creare dei what if, che banalmente è quello che sta succedendo con il remake e con Rebirth. Senza intaccare né tantomeno negare la storia originale, ha creato una ramificazione alternativa che adesso è del tutto imprevedibile. Noi non sapremo effettivamente come andrà a finire la storia di Final Fantasy VII nella sua iterazione reboot. Quello che non capisco da persona che ha giocato l'originale, e quindi invito qui voi nei commenti a dirmi la vostra, a me incuriosisce non poco l'idea di poter vedere appunto una svolta narrativa che la storia originale invece non permetteva, ma semplicemente perché iniziava, finiva, non contemplava il multiverso, e quella è. E vorrei anche farvi ragionare su questo. La storia originale esiste, è pazzesca, è meravigliosa, ne siamo tutti innamorati, e non è stata toccata. Rimarrà sempre lì, rimarrà sempre nelle vostre menti, rimarrà sempre nei nostri cuori. E credetemi ragazzi, io lo capisco, non voglio essere incoerente. All'inizio di questo video io ve l'ho detto, a me piacciono i remake uno a uno, soprattutto quando vanno a prendere dei videogiochi obiettivamente vecchi. Quello che io non capisco è il negare la bellezza, o la potenziale bellezza, di Final Fantasy VII Remake Rebirth per principio. Cioè, per posizione presa. Non capisco, non comprendo e non giustifico il non voler dare una possibilità alla storia. Cioè, come fate a non essere curiosi di capire dove vogliono andare a parare? Poi magari vi farà schifo, poi magari lo reputerete fallimentare. Ma come fate a non avere la curiosità? Perché io ce l'ho. Cioè, io sono veramente curiosa, nonostante in varie live, in vari momenti delle live, mi sono bloccata e ho detto, ok, ho paura che questa cosa possa non avere senso. Ma aspettiamo! Sono comunque curiosa, voglio vedere. Capite la differenza? E con questo non è che voglio che mi diciate, ah brava Sam, non c'entra niente. È più un consiglio che vi do per approcciarvi alla cosa. Visto il confronto che ho avuto con tanti utenti, che hanno giocato all'originale, e che non si stanno approcciando a Remake Rebirth come a mio avviso dovrebbero. Soprattutto perché ho sentito portare come giustificazione della loro tesi, è tanto Remake Rebirth sono fatti per i fan di vecchia data. Non sono fatti per i nuovi fan, perché i nuovi fan non capiscono niente. Ora, io non sono una nuova fan. Perciò l'unico modo per capire se i nuovi fan stanno apprezzando il Remake Rebirth è chiedere loro se stanno apprezzando il Remake Rebirth. Quindi l'ho fatto ed è emerso che stanno apprezzando i videogiochi nonostante non conoscessero la storia originale. Questo perché, come dicevo prima, la storia originale è lì. Noi che l'abbiamo giocata possiamo cogliere i riferimenti che ci vengono lanciati di tanto in tanto in Remake Rebirth. E Remake Rebirth strizzano spesso l'occhio alla prima storia. Un po' come per dire, hai capito che sto facendo? Sì, ti ricordi com'è? Ecco, adesso è un po' diverso. E non lo so, da una parte mi sento anche coinvolta. Io che ho giocato all'originale mi sento coinvolta in questo giochetto che stanno facendo. Non lo riesco a vedere con il nervosismo di alcuni utenti. Non so, magari sono strana io. Magari apprezzo il multiverso se fatto bene come concetto. Un multiverso che chiaramente rischia di essere tanto fanservice, indubbiamente. Ma che non lo so, torno a dire, mi incuriosisce. Voglio capire dove andranno a parare. Io sinceramente non la vedo come una mancanza di rispetto nei confronti della storia originale, dei personaggi, di come sono stati scritti e di quello che potrebbero diventare. E quindi però, a questo punto, per una cosa, devo dare ragione ai detrattori. Non è che non si doveva chiamare Final Fantasy VII. Non doveva chiamarsi Remake. Avrei preferito di gran lunga che il primo capitolo si chiamasse, che ne so, Rebirth. Non ha senso per quello che succede. Magari avrà molto più senso per quello che succederà in questo capitolo. Che cavolo di paura che ho. Il secondo in un altro modo. Il terzo in un altro modo ancora. Dei sottotitoli che però con Remake non c'entrano niente. Perché di fatti, sì, è considerabile Remake per alcune cose, ma per altre cose stai cambiando la trama. Stai cambiando... Hai preso gli elementi, ma hai cambiato il modo in cui si mescolavano. Quindi, secondo me, per rispetto, avrei palesato immediatamente le intenzioni. Invece a suo tempo io mi sono approcciata a Remake, ho visto apparire per la prima volta in Ume e l'ho detto Aspetta, che è sta roba? Quindi, andando verso la conclusione di questa riflessione, a me il multiverso piace come concetto. Probabilmente sono facilitata l'accettazione di questa saga. Mi incuriosisce il fatto che probabilmente l'intento degli sviluppatori è quello di creare una realtà, una ramificazione, che vuole restituire un finale un po' più dolce, un po' più sereno ad alcuni personaggi che sono stati trattati veramente come cani, come bestie da macello nell'originale. Può piacere, non piacere, vabbè, ma doveva morire così, vabbè, ma ha senso che succedeva quella cosa. Ok, è vero, quella ramificazione esiste già. Mi dispiace che magari si sono persi l'occasione di riportarla uno a uno con una grafica e con un combat system più al passo coi tempi, ma quell'esperienza l'ho vissuta, non me la toglie nessuno. E a questo punto voglio pensare positivo e sperare appunto che magari i nuovi fan possano recuperarsi l'iterazione originale, proprio incuriositi da questa svolta remake. Ma, chiaramente, ci sono dei ma. L'importante, nonostante tutto, nonostante tutti i cambiamenti del caso, è la coerenza. Come dicevo, sono al capitolo 4 e ho già trovato un 2-3 cose che mi hanno fatto scattare il campanellino d'allarme. E non si tratta di capricci del tipo «Eh, ma questo nell'originale succedeva in questo modo», si tratta piuttosto di risvolti di trama che nell'originale avvenivano proprio come conseguenza di alcune cose, anche minori, anche secondarie, ma che succedevano. che di fatti innescavano la spinta dei nostri protagonisti per compiere determinati spostamenti, per letteralmente visitare nuove città, poiché spinti da una motivazione. È molto difficile parlare senza parlare realmente della cosa, ma ok, ci sto provando. E quindi, boh, questo, l'unica cosa che chiedo, è la coerenza. Vuoi cambiare la caratterizzazione di un personaggio? Vuoi farlo diventare buono? Vuoi farlo alleare per un periodo X con altri personaggi? Ok, fallo, ma dagli un senso, spiegamelo. Fa che sia giustificata come si deve, come cosa. Poi sarà fanservice? Assolutamente sì, ma a fronte di una giustificazione, di una spiegazione ben congegnata, posso quasi accettarlo, quasi. E ripeto, considerando che sono tra coloro che hanno ancora il cuore spezzato per tutto ciò che è successo per la storia di alcuni personaggi, non mi dispiacerebbe se in questa nuova iterazione venissero trattati leggermente meglio. Non dico necessariamente risparmiati o che tutti possono avere il loro lieto fine, ma perlomeno che ci sia una sorta di riconciliazione più armoniosa. L'ultima cosa su cui vi voglio far ragionare, poi come di consueto qui vi do spazio per la discussione nei commenti, è commentare il lavoro di Final Fantasy VII Rebirth e Remake con oggettività. Che cosa intendo? Fa schifo. Un fan di Final Fantasy VII originale non può apprezzare il remake e non può apprezzare Rebirth. Se dici che ti piace, perché non hai mai giocato l'originale? Ragazzi, ragazzi, Facciamo un discorso e per quest'ultimo discorso mi avvicino un po' a voi. Per quanto banale quello che sto per dirvi, è qualcosa che mi rendo conto che non entra ancora bene nella mente di tante persone che commentano neanche tanto con l'intento di essere fastidiosi, non se ne rendono proprio conto. Quindi mi piace l'idea di potervi dare uno spunto di riflessione. Come si fa a parlare di gusti con oggettività? Come posso dire a me piace e quindi è così? E ancora, come posso avere la presunzione di pensare che ciò che piace a me deve necessariamente rispecchiare i gusti degli altri e se i gusti degli altri non rispecchiano i miei, significa che quelli non capiscono niente? È veramente un ragionamento molto presuntuoso, ma tanto. Per quanto qualcosa possa essere oggettivamente brutto, parlando appunto di valori che sono incontestabili, come la fotografia in un film, le capacità attoriali di alcuni attori, il comparto tecnico di alcuni videogiochi, per quanto ci siano appunto dei parametri oggettivi, la sensazione che uno ha nel giocare un videogioco, le emozioni che prova, le emozioni che quel videogioco fa provare al videogiocatore. Ragazzi, quelle sono cose che variano da persona a persona e non c'è niente che potrete mai fare per cambiare questa roba. Con tutto l'odio che potete metterci, con tutta la frustrazione che potete avere in corpo, se a me una cosa piace, perché a me piace, me continuerà a piacere. È fine. E questo discorso banale io lo sto facendo perché purtroppo ultimamente durante le live arrivano persone che mi dicono alzando le mani, giustificandosi. Perdonatemi, io non ho giocato l'originale però vi devo dire che questo remake, questo rebirth mi stanno piacendo tanto. Perché ti stai giustificando? È un videogioco del 97, ci sta che tu possa non averlo giocato. Non devi averlo giocato. Va bene anche se tu hai giocato solo remake e rebirth e soprattutto va benissimo che ti stiano piacendo. Non dovete dare giustificazioni a nessuno per i vostri gusti. Quindi, l'atteggiamento più maturo per chiunque abbia apprezzato l'originale di Final Fantasy VII e vede persone che si stanno approcciando magari alla saga remake vergini, quindi senza l'esperienza originale, è, e vi consiglio appunto questa cosa, è quello di essere accoglienti. È quello di dire magari la propria, sì, far passare l'amore che si ha per l'opera originale, ma non cercare di escludere quelle persone solo perché non conoscono l'opera madre o disincentivarle dal giocare remake e rebirth solo perché il 7 per voi era meglio. Lasciateli vivere le loro storie, non siate così opprimenti perché poi è questo che diventate opprimenti e i videogiochi tutto dovrebbero essere tranne quello, i videogiochi devono essere divertimento, devono essere accoglienza, devono essere un modo per riunirsi con le altre persone, immaginatevi un salottino, no? Ecco, ogni volta che faccio le live, ogni volta che mi confronto con voi, mi immagino proprio questo, l'idea di stare in un salottino, in una sala giochi tutti insieme e parliamo delle cose che ci piacciono, che ci emozionano, anche magari discordando, ma faccia a faccia tutti insieme in un clima di accoglienza. Magari sono io che sogno, però l'intento originale del videogioco non era questo, unire le persone invece che dividerle. A me sembrava di sì. Detto questo ragazzi, adesso lascio la parola a voi. Come sempre vi invito a sostenere una conversazione educata, civile, rispettosa degli altri e soprattutto visto che stiamo parlando di un videogioco che molti di noi vogliono e devono ancora giocare o che stanno attualmente giocando, vi chiedo per favore di evitare gli spoiler o in caso se proprio volete parlare di qualcosa di specifico, di segnalarlo e magari lasciare qualche riga sotto. Per chiunque è rimasto fin qui, grazie mille della vostra attenzione e io vi do appuntamento al prossimo video.